Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te Ok, te ne vai Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai Grazie per aver visitato il canale YouTube di The Voice on Italy Per iscriverti, clicca qui E se vuoi continuare a vedere questo e altri contenuti web Grazie